Lucio, cos'è questa meraviglia davanti a noi? Ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Siamo nella località Trarro. Sotto possiamo vedere una delle tante torri, torri saraceni, che da Sabri fino alla costituzione Amalfitana se ne contano ben 144. Sotto di noi, ancora sotto la torre, ci stanno le quattro spiagge più famose della costa che va da Scario a Mare di Camerota. Infatti, dall'altra parte, sulla destra, vediamo la punta degli Infreschi e il confine dei due comuni, il comune di San Giovanni Appiro e dall'altra parte il comune di Camerota.